Ciao ragazze, nuovo video, video di un super mega pacco che mi è arrivato ed è l'ultimo dei regali di Natale che mi doveva arrivare siamo in super ritardo perché siamo a metà gennaio inoltrato ma io e Nadia abbiamo avuto qualche problemino sullo scambio dei regali quindi ce ne siamo mandati adesso per appunto questi problemi non riesco a farvi vedere la scatola intera perché è enorme io non so che cavolo ci abbia messo dentro vabbè facciamo così va, così forse ce la faccio questa è la scatola, non riesco neanche a farvela vedere per intero ma non importa l'ho già aperta per velocizzare però è piena di pacchi ce ne ha mandato troppi pacchi wow iniziamo perché mi sa che sarà un video molto lungo allora, primo pacchetto questo qui qualche pacchetto si apre qua credo vabbè io spacco che faccio prima oddio ma una scorta di orecchini ma è una scorta di orecchini ok di Deborah, guardate che bello no? luce, levati si, ho deciso che per i pacchi quando mi arrivano registro loro di qua perché essendo per terra ho molto più spazio dove metterla roba non si apre guardate che belli non rendono però questo verdone qui è caduti i pennellini è spettacolare anche loro eh ma non rendono un youtubero che bello poi il packaging è stupendo cioè è veramente stupendo poi ok rifornimento di orecchini a dita wow ma sono fantastici no cioè allora guardate questi stupendo guardate questi blu fantastici questi a cuore sono divini e guardate questi bianchi belli adoro gli orecchini ma mi conosce ormai penso che mi conosca meglio di tante altre persone altro passo che carino lo scotch scattiamo tutto sì via carta via è peluccio è peluciosa ma che fa un profumo ha un profumo buonissimo è pelucioso è peluciosissimo ma è divinamente divina ma è divinamente divina bella grazie grazie poi cos'è? deve essere la tracolla di una borsa credo in teoria sì credo oh cos'è? è per me o per mia nipote? cos'è? italiano? italiano caramelle dure al gusto di frutta oh frega un cacchio se erano per mia nipote Nadia ti dico che sono mie con Bart Simpson sì 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 dopo me le bagno dopo me le bagno che cos'è? no non è una spugna ma che buon profumo no teso che cos'è? è tipo tipo salida bagno perché non non mi sembra un sapone a meno che non sia un sapone che fa anche scrub mamma mia fantastico il profumo no voglio provarlo no devo provarlo aspetta che cavolo hai messo qua dentro? che carene sì ma pesa un quintale sto sacchetto tu sei pazza a farmi tutta sta roba? ok monetine queste devono essere le cose del non mi ricordo per cosa mi do ah sì per la foto di di Noemi sì la foto la macchina fotografica di Noemi della patatina tanti tanti sapchettini caramellino se lo faccio una caramellina me la mangio me la considerate tappettino che buono caramella mi si è rincolato lo scotch oh si è aperta non si è aperta che belle le cuffie per il telefono per l'ipod grazie rosa grazie fantastico uh quante caramelle ce ne sono ancora che carina la carta di Minnie questa qua si vede di più sì guardate che carina la carta caramellina dopo mi mangio uh la Sienne io qua non la trovo mi sento sempre parlare ma non la trovo questa è una crema per 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 le mani offre sollievi nutrimento immediato finalmente posso provare anche io i prodotti della Sienne e vai ah bene tutti li ho trovato al Carpool in altri supermercati io ci sono girati tutti quelli vicino a casa mia non ce n'è uno che ce l'abbia uh altro Sienne questo è il latte detergente fammi un po' sentire il profumo che buono è un profumo delicatissimo è il fiore di loto su qua no devo assolutamente provarlo non vedo l'ora non vedo l'ora è questo quello che mi avevi detto che ti si era aperto vero no l'ho capito dallo scotch che è un solvente sempre della Sienne sì perché mi aveva detto se senti odori strani quando apri il pacco è perché mi si è aperto un solvente per unghie e quando ho visto lo scotch così ho capito che era questo io poi casco a pennello perché io il mio l'ho quasi finito ok questo venivo quante caramelline mi ha trovata la sveglia mentre registro ovviamente succederanno le cose il lip balm di essence ma sai che io questi qua non li ho trovati che buono profumo mamma mia il profumo è fantastico questo è lo 02 spero vediate vediamolo lì e quella linea lì di esserso non l'ho trovata smalto smalto ma che bello sto colore non è un bello non rende invidio ovviamente ma è un colore bellissimo dopo me lo metto dopo me lo metto una due tre tre caramelline più quella in bocca quattro e vediamo lì quanti pacchettini io lo so che verrà un video lungo cinque chilometri perché non non sia ma che bella no ma è stupenda questa agenda qua posso scriverci tutti i numeri che io non ce l'avevo con lo spazio per scrivere i numeri no ma è stupenda c'è pure il righello no ma è stupenda così è chiusa ma guardate l'interno cioè al righello questo è tipo un promemoria poi ha qui lo spazio per scrivere ha tutti questi spazi plastificati qua per gli appuntamenti questo è per i contatti gli indirizzi scrivere gli indirizzi qui ha uno spazio per le tessere ma io non ho mai visto un'agenda con lo spazio per le tessere che figata lo spazio per le note per scrivere a righe i quadretti e poi lo spazio qua per i numeri dalla A alla Z ma è stupenda questa mi viene utile molto utile poi viola viola non poteva sbagliare oddio che bella guardate che cos'è che roba è no è stupenda bellissima con questi strass rossi no ma è stupenda bellissima bellissima vorrei urlare ma non posso c'è mia madre di là che se urla mi viene di qua e mi dice a chi urli a fare uh e pure il braccialetto coordinato in questo momento guardate che bello stupendo 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 io le adoro ste cose uno smalto questo è il crack bianco bianco non ce l'avevo di Kiko è lo 615 cos'è questo piccolo picchettino qui non c'è più niente ma sei pazza ecco perché delle cuffie mi ha mandato un mp3 rosa pazza cioè tu sei pazza oddio è fantastico e la tv e c'è una mamma per amica se siete interessate oddio oddio grazie fantastico tu sei malata però sei malata te lo dico sei malata oh billettino per memme e anche per zia dai grazie che mi tieni in considerazione ma cosa è sta roba ma dovrei aprirlo con manuele dai c'è scritto che anche per me al massimo l'ora è imparfetto ma sei malata cioè mi ha mandato il nintendo che sono i primi nintendo che sono fantastici ma tu sei malata cioè vedi io non devo più dire niente niente non devo più dire perché io stavo parlando un giorno con lei delle playstation quelle cose lì che sia io che Emanuele non le usiamo perché io non ci so giocare Emanuele non ce l'ha e ho detto io le uniche cose al quale so giocare sono le cose del nintendo appunto tu sei malata malata le ho detto tutto che cos'è adesso sono arrabbiata uh ecco il burro cacao della sien mi ha fatto scorta di emollienti labbra oddio il nintendo grande non ho parole lustina cioccolato il cioccolato smizzera fantastico è bellissimo guardate come faccio voglio vedere tutto comunque un vestitino animaliere o pardato con le tasche guardate i dettagli come sono belli guardate questi bottoni è stupendo il dietro è fatto così con le finte tasche sul dietro tessuto morbidissimo oddio grazie no non vedo l'ora che sia stata per metterlo grazie 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 bello guardate anche questo top no voglio che sia estate primavera calda da poter mettere queste cose grazie ultimo pacchettino scatola ce l'ho fatta finire è Babbo Natale è arrivato è arrivato Babbo Natale è arrivato Babbo Natale oddio che bella è stupenda in stile Barberi che a me piace tanto grazie penso che sarebbe tenere dentro dentro comunque la sua taschina sembra comunque capiente anche se è piccolina oddio è bellissima stupenda 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 grazie 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 non vedo l'ora di mettere queste borse grazie io sono veramente senza parole senza 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 parole grazie 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 io spero che le cosine che ti ho mandato ti piacciono tanto quanto le cosine che hai mandato tu a me mi sono piaciute perché sono sono penso di essere diventata cretina in questo istante sì Babbo Natale è arrivato alla bambina alla Roberta bambina che è su di giri adesso vado subito al piano di sotto a portare il pacchettino a meme gli presenterò anche il nintendo così che magari inizierà ad avvicinarsi a questi giochi elettronici perché lui è per i trattori le draghe le ruspe magari si avvicina un po' a queste cosine che ne dite sì si può fare e poi c'è zizi zizi che col nintendo ci sa fare no niente sono niente per cretina prima di andare giù però mi mangio cioccolato un'altra caramellina metto a posto sì metto a posto sì 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 grazie 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 ancora tantissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissim sei matta malata pazza e chi pietra mi ne metta se avete dei sinonimi di pazza fuori di testa scrivetemeli ditemeli perché in questo momento non mi vengono in mente ma tutti i sinonimi di pazza sono rivolti a Nadia e quindi niente questo video è già venuto lunghissimo io ti ringrazio ancora tantissimissimissimo mi è piaciuto tutto, tutto, tuttissimo grazie, 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 grazie ti mando un bacione un bacione anche ai tuoi due bimbi alla principessina e al principino un bacione anche a loro e un bacione ovviamente a tutti voi spero che il video vi sia piaciuto tanto quanto a me e niente, noi ci vediamo al prossimo video ciao